ciao a tutti poveri youtube ecco a voi un nuovo video ciao a tutti per oggi ve lo volevo fare il tag del mio amico peloso il mio amico peloso è questo qui ecco lui è l'amore della sua mamma ecco di qua l'amico peloso è lui è il bambino avete visto adesso vediamo se si sta qui prima credo di me perchè lui andassero a fare la mamma la mamma rompe sempre le ballette io dylan ciao ciao papà di youtube come si chiama? come si chiama? lui si chiama dylan che animale è? e di che razzo? allora lui è un cane e razza è nesta perchè è cosiddetto bastard e razza nesta soprattutto pincher e chihuahua poi da quanto tempo ce l'hai? io ce l'ho da due anni due anni e due mesi poi come l'hai avuto? ehm è stato un po' un regalo di una mia ex amica la sua gata ha fatto i cuccioli e lui ha scelto mi ha scelto come paduano quanti anni ha? lui è nato il 28 agosto del 2014 da quattordici ha due anni e due mesi e poi si mette dentro la sua mamma ovviamente racconta qualche sua strenza allora lui dorme con me sotto le coperte appena in fondo ai piedi e la sua mamma spostanza la sua mamma ed è molto intelligente che capisce qualsiasi cosa praticamente ogni mio stato d'animo lo capisce cosa significa per te il rapporto con lui lei Dylan per me è è tutto l'elemento di lui e la mamma la mia vita oltre all'elemento di lui è uno del mio non potrei stare senza di lui quali sono i momenti più belli per lui? sono i momenti più belli sono quando porto la spasso quando gli faccio il coffe e quando dormo e mi sento e io Dylan mi sento mentre camera mia e camera sua mi sento mi sento e mi sento a il mio è il mio totino è mio bambino è il mio cipolletto Per lui è cipollino, cipollino lo sognino. Quali sono le parole che riconosce? Riconosce qua tutto, andiamo fuori, andiamo, andiamo fuori, diventa amato, fuori di testa. Papa, il suo nome ovviamente, andiamo a letto. Non lo capisce lui che non lo ha letto. E niente, queste erano le domande, le dieci domande del tanto il mio amico peroso. Spero che questo breve video vi sia aperto e vi faccio vedere un attimo. Vi faccio vedere questa meraviglia di coi mamma. Ciao, ciao papà di YouTube, io sono Vira, il nome della mamma. Lui è tutto, tutto tutto tutto. Senza di lui non saprei come fare. E' un battaglione perchè vaia molto, 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 però è di una dolcissima intelligenza assurda. Ma ho mai avuto un rapporto che si stava meglio. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto anche se non è stato uso da nessuno. Spero vi sia piaciuto, spero che vi sia divertiti, spero che vi piace il mio cannellino. Io vi saluto e vi saluto. Un bacio con noi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!